buongiorno amici allora siamo su monopoli è da due giorni che non faccio video mi sa mi avete dato una carta dorata ringrazio tantissimo thoman che mi ha dato una carta dorata che effettivamente ci sono gli scambi delle dorate ora vado un attimino a vedere i tiripremi intanto devo vedere anche mi avete chiesto di far vedere tutti i set dell'album quindi vi faccio vedere tutti i set dell'album e vediamo anche le carte dorate scambiabili quale sono giusto per vedere poi vediamo un attimino ho ordine speciale mi servirebbe vabbè non lo richiedo perché è una carta o delizionare mi serve quindi accettiamo l'offerta di thoman e gli diamo una carta a equal valore perché non ho carte a 5 quindi gli ho già dato la carta non me l'ha fatto dare continua ok sì perfetto thoman se vuoi accettare se no niente purtroppo ti avrei dato una carta a 5 abbiamo albero luccicante che ci sono ben mille dadi da prendere ritiro il premio intanto vi faccio vedere il set dell'album poi andiamo a giocare col per mille che prenderò ovviamente no non ce l'ho il per mille perché l'ho giocato nel torneo quindi niente giocheremo a per cento tranquillamente ho sbloccato anche la pedina allora vi faccio vedere l'album mi manca qua una carta a una stella se volete darmela anche qua anche qua qua due però volevo vedere la carta a 5 che ricomincio a fare le donazioni ma purtroppo non ho niente da darvi non assolutamente niente mi dispiace vabbè vi ho fatto vedere i set se volete darmi una mano con le carte a una due stelle se no non importa a questa è scambiabile oltretutto ma questa qui non era ordine speciale scusate pensavo che ordine speciale fosse non fosse dorata apriamoci il forziere comunque e poi andiamo a giocare si è bagato il forziere assurdo riapro il gioco devo dire che ultimamente il forziere sta dando qualche piccolo problema non so il motivo ma me lo apre o meno male meno male se no non sapevo cosa fare ok vediamo se ci va bene da un po che non mi va bene quindi potrebbe essere la volta buona ok niente gettone amico peccato ok e niente veramente ragazzi è da tipo un mese un mese no però è davvero tanto tanto tempo che non mi dà qualcosa ritiriamo il premio ci prendiamo anche l'emoji devo passare dal via due volte beh giochiamo per cento e cerchiamo di prendere almeno quei mille dati quindi sarà ragazzi un video in cui io giocherò e basta a manetta anche ok scudi vediamo quanti dati riesco a mangiarmi prima di ottenere qualcosa io arrivo massimo 11.000 è tanto vorrei dire 110.000 potrei dire 115 se mi dà qualcosa oltre alle tasse che le sto prendendo con una cura chirurgica ok devo distruggere due volte l'emoji la prendiamo vero no devo distruggere due volte per l'emoji ok la stazione l'abbiamo presa oh anche la pina ci facciamo un po di punti così sia del torneo molto molto bene peccato non avere il per mille 500 punti e 1.600 eh eh dovrebbe esserci un per mille in questo torneo perché quella due giorni ma è verso la fine ho trovato la carta ha finito set incredibile il set 1 ragazzi che vi ho fatto vedere non mi serve più che dovrebbe essere sugli ultimi premi vabbè siamo a 12 regali su 30 figuratevi non ci arriverò mai prigione quindi vediamo che magari mi dà un per mille faccio un video lungo se mi dà un per mille dopo i mille dadili è tutto da vedere vabbè qua attacco proprio easy se aveva gli scudi era preoccupante mi avete detto che le emoji posso usarle anche nel quando attacco e distruggo adesso proviamo a utilizzarle perché non l'ho ancora fatto voglio un attimino vedere oh che culo 10 ok vediamo le strutture come sono sono tutte intatte quindi si cambia magari qua va meglio assolutamente no mi sono dimenticato di utilizzare le emoji scusate comunque ritiro anche l'ultimo premio che ne prendiamo un'altra adesso magari la utilizziamo al prossimo a stazione vediamo com'è ha il cuoricino carino questo qua le hanno fatte proprio per far tiltare le persone secondo me perché l'avversario suppongo le veda comunque ci sta andando molto bene di stazioni prendiamo anche i mille dadi allora questa ha le strutture intatte ok vediamo se ci va ok quindi vediamo un attimino gli invio quella che ho appena preso il cuoricino giusto per far tiltare la persona quando entrerà ok non c'è il per mille però con una stazione lo prendiamo quel premio quindi direi di giocare ragazzi veramente mi sta dando un botto in stazioni rapina oltretutto molto molto buona ok grande rapina buono non sto qua a usare emoji perché voglio vedere se c'è il per mille no però riusciamo a prendere a filo riusciamo a prendere pure quel premio eh con una stazione qua altri premi eh bustina blu buono vediamo ok carta dorata buono ah ho finito il set con quella dorata ottimo ottimo ok sta andando veramente bene eh non mi aspettavo di fare distruggendo il per mille non mi aspettavo un video del genere 300 punti e stazione ragazzi se proprio avevo il per mille lo distruggevo il le missioni le distruggevo eh vediamo se me lo da ora perché se continuo ad andare così mi da il per mille niente per mille però riusciamo a prendere pure quello va bene ci facciamo un po' una dorata nel frattempo che c'ho già e ci facciamo ah no vabbè però qua mi tradisce un po' il gioco eh poteva continuare a darmi 10 perlomeno mi da 11 ora no 7 no però 300 dadi e 200 punti dammi la stazione ragazzi easy proprio oggi pensavo di andare sotto i dadi invece siamo siamo up ma anche di brutto tra l'altro mi stanno anche andando veramente bene distruzioni 1500 eh questa è un po' dura da prendere solo 1500 ma scusatemi cioè 2000 punti mi dava 1000 dadi i 2005 punti mi dava i 1000 dadi e devo farne devo prendere altre tre stazioni per 500 dadi in più peccato non avere il per mille qua devo dire peccato mortale perché non credo di riuscire a farcela o comunque devo stare qui un bel po' vabbè me la gioco vediamo se riusciamo a prenderla obiettivo del video in frattempo parlo un po' con voi magari se volete consigliatemi qualche gioco da portare oltre a monopoli se avete qualche idea posso anche comprare i giochi in caso perché mi piacerebbe portare anche qualcosa al computer magari visto che ho la web ho fatto una sorta di postazione ho la webcam il microfono funziona tutto bene perché vorrei portare qualche gioco il problema è che attualmente non saprei perché diciamo che io non seguo il mercato dei giochi e se porto dei giochi porterei dei giochi che ho già giocato quindi non non è che mi piaccia molto l'idea di fare così magari qualche io non gioco horror quindi se volete magari qualche horror potrei portarlo sempre consigliato da voi che gli horror io salto ragazzi ne ho giocati pochi però io salto a prescindere quindi se vi piace che porto qualche gioco del genere basta che me lo dite ok nella prigione nel frattempo vediamo se ci va bene sto giro no che ripeto che vada bene va bene la prigione se va male poco mi importa in realtà per il semplice fatto che quando avrò il per mille vuol dire che andrà bene o comunque non è che va bene però ho maggiori chance che vada bene qua nel frattempo sente oh meno male si era un po' interrotta la scia delle stazioni mi stavo preoccupando però stanno andando veramente bene le rapine le rapine stanno andando bene 500 punti ma si dai cerchiamo di prendere siamo anche quarti hanno tolto il per mille adesso i tornei si riescono a vincere più facilmente miseria il primo 85 mila va bene mi piace molto come il gioco mi abbia subito punito appena ho detto adesso si vincono i tornei 85 mila punti il primo però vabbè diciamo che magari il secondo ci arrivo ma mi basterebbe anche il terzo posto perché alla fine ho visto che c'è la carta dorata fino al terzo esattamente se è il terzo posto riesco a prenderlo forse se ricomincia a darmi stazione a manetta magari ci avacciamo stava portando fortuna all'alberello forse devo cambiare uso la strategia del cambiare pedina no dai va bene questa ok cambiamo subito avversario quindi mi raccomando se avete ma anche non horror qualsiasi gioco anche difficile a me piacciono molto i giochi difficili tipo non so se conoscete Dark Souls penso di sì poi anche Ori Ori and the Blind Forest che ho giocato mi è piaciuto veramente un sacco poi che altro c'era vabbè Super Meat Boy è vecchio come gioco potrei andare in cerca effettivamente di qualche gioco molto difficile che lo porterei sul canale è che adesso non mi vengono in mente e dovrei ovviamente andare a vedere ok ci avviciniamo al traguardo nel frattempo dare un bel 9 8 ovviamente ricomincia ecco che ricomincia a farmi capitare non me la data per fortuna il video sta durando parecchio quindi credo mi fermerò con questi 4000 dadi qua che non sono 4000 dadi sono 4000 punti e Quick Condor 31 lo emottiamo ok vediamo un attimino cosa c'è nel premio successivo solo ok 1000 ma sì dai prendiamoci pure questi qua giusto c'è anche il premio cosa una bustina magari dai prendiamoci pure quel premio là se ho per 1000 lo tengo per il video di domani ovviamente perché il video sta già durando tanto e poi vi ho fatto una domanda a cui dovete rispondere quindi magari cerchiamo di prendere l'ultimo premio ok mi sa che l'abbiamo preso no ci mancano 100 punti vabbè attacco a caso sto punto via non importa sono terzo al torneo no sono ancora quarto va bene magari un'ultima stazione per fare punti un bel 7 una rapina mi ha dato mi ha dato il 6 mi ha dato di nuovo 6 ok 300 dadi abbiamo fatto anche questo no c'è la bustina provo a prendere l'ultima stazione per vedere se riesco a salire se no ci vediamo al prossimo video 12 perché ho provato a portare anche League of Legends ma League of Legends non vi piace comunque non ho tanto seguito quindi non credo lo porterò più anche se a me è ripeto un gioco che piace veramente tanto ok stazione che ci prendiamo anche il pacchettino e poi chiudiamo purtroppo è una distruzione ma non importa a parte che il per mille ce l'ho lo stesso domani perché si è resatto al torneo ok niente per mille mi blocco qua ragazzi nessuna dorata e neanche carta nuova va bene ragazzi ci vediamo al prossimo video lasciate like iscrivetevi noi ci vediamo alla prossima non siamo terzi per quanto per poco va bene non importa e ci vediamo ciao